Sì, volevo ringraziare il consiglio, il vecchio consiglio direttivo della SIER perché sono stati due anni veramente intensi, belli e molto formativi per me. Aspettavo che si riempiva un po' la sala per ringraziare invece tutti i partecipanti del congresso, adesso la metà sono ancora nella sala del coffee break, però veramente un congresso emozionante anche per tutti noi, per l'intensità delle presentazioni e vedere la società così viva per noi è veramente motivo d'orgoglio. Adesso vi vado a raccontare un po' quello che è già stato accennato ieri dalla presentazione di Laura e poi dalla bellissima lezione magistrale di Riccardo che ha parlato delle innovazioni nel nostro campo e che è un po' il filo conduttore del nostro congresso. Per fare questo volevo introdurre la nostra rivista ufficiale per noi editors, per tutta la SIER ma in particolare per noi editors è un motivo di orgoglio, quindi volevo ringraziare il professor Televi, il professor Artini, il dottore Sarienzi per questo grande lavoro che stiamo facendo insieme. è una rivista ad accesso libero, open access e soprattutto che gli autori non hanno, un fi per la pubblicazione. È un motivo d'orgoglio vedere che abbiamo già accessi, download internazionali e il nostro obiettivo è quello di arrivare presto all'indicizzazione su PubMed e sicuramente ce la faremo perché stiamo lavorando molto bene. Adesso quello che voglio raccontarvi è il riassunto nel numero 4 di questo numero che avete trovato stampato anche nel vostro kit congressuale. Per noi è un motivo d'orgoglio aver raccolto degli opinion leader del settore, degli embriologi esperti per parlare dello stato dell'arte del laboratorio di embriologia. Tutto nasce da, vedrete come alcuni degli autori sono già stati citati da Rosanna nella storia della fecondazione, così capite la portata e l'autorevolezza degli autori che ci hanno fatto il regalo di scrivere questo numero. Tutto nasce da questo personaggio, è stato citato ieri un paio di volte, che è Gabor Vaita, lui è un globetrotter dell'embriologia, uno scienziato a tutto tondo, è un nostro amico, è un amico della Sier, che lui si divide tra la Cina e l'Europa per i suoi lavori, è autore di più di 350 pubblicazioni con più di 8.000 citazioni, ha inventato dei sistemi per fare il clonazione a mano, ha lavorato per sviluppare sistemi di incubazione, di timelapse, è in tutte le pubblicazioni più importanti della storia della vitrificazione cinetica moderna, è stato il primo ad ipotizzare la possibilità di fare una vitrificazione asettica e poi uno stoccaggio ermetico, da questo punto di vista è stato il mio fonte di ispirazione e mentore, è una persona che non si stanca di rispondere alle tue mail anche settimanalmente e lui stava pubblicando questo articolo su come si è evoluto il laboratorio di embriologia negli ultimi anni per una rivista molto importante del settore, poi però è nata questa idea di farla diventare un numero monotematico e chiedere commenti ad altri embriologi e lui con questo articolo voleva svolgere un ruolo di provocatore perché nel suo articolo, l'avete visto nella bella foto che ieri ci ha fatto vedere Riccardo, aveva usato il paradosso del genetista e dell'embriologo che per un incidente del destino andavano in coma e si risvegliavano dopo 20 anni, il genetista trovava un laboratorio completamente rinnovato e probabilmente così tecnologico che non sarebbe stato in grado di lavorare mentre l'embriologo trovava più o meno inalterato il laboratorio di embriologia. Quindi Gabor ci dice che nell'ultimo periodo gli avanzamenti nel laboratorio di embriologia umana e in generale anche quell'animale sembrano rallentare perché probabilmente ci sono meno persone che hanno voglia di innovare, perché ci sono dei fattori che ci rendono più pigri, tutto questo viene, ci sono delle impedimenti di tipo normativo, tutto questo è stato analizzato nel suo articolo molto provocatorio che appunto si riassume con il concetto che il periodo delle innovazioni si è fermato proprio negli anni 90. Allora vediamo come gli altri autori hanno commentato e proposto la loro visione sulle innovazioni nel laboratorio di embriologia. Avete visto nella storia che ci ha fatto prima Rosanna il ruolo importante che ha avuto Jacques Cohen nella micromanipolazione, nel congelamento delle blastocisti. È stato un visionario quando ha introdotto il transfercito plasmatico, ha fondato un gruppo che fa la diagnosi e lo screening, i test genetici per la diagnosi e per lo screening e per l'impianto negli Stati Uniti. È una persona, è uno dei pionieri della fecondazione umana insieme alla sua compagna Minali Cani che è una bravissima e preparatissima embriologa, direttrice di laboratorio, recentemente ha pubblicato un bell'articolo su quali sono i requisiti e il personale che è necessario in un laboratorio di PMA moderno. Loro si sono più concentrati su quello che ci dobbiamo aspettare riguardo le innovazioni nel laboratorio di fecondazione umana nei prossimi anni. Sicuramente quello che avverrà sarà un'aumentata efficienza ad un costo più basso. Questo perché noi siamo in grado, scusatemi se da adesso in poi sono un po' wordy le diapositive ma vi voglio raccontare questo numero per farvi venire voglia di leggerlo perché veramente ogni capitolo ci racconta qualcosa e effettivamente ci riporta a quello che noi stiamo facendo in laboratorio e anche a quella che è stata la nostra storia. Loro osservano che i casi di, per esempio, si è avuto un incremento nella fertilizzazione nel momento in cui è stata introdotta la ICSI e siamo riusciti ad aumentare negli ultimi vent'anni il tasso di formazione di blastocisti. Il tasso di sopravvivenza degli embrioni dopo scongelamento è aumentato in modo impressionante. Adesso con la vitrificazione cinetica noi abbiamo dei tassi di sopravvivenza che sono vicini al 100%, è un indicatore questo così vicino al 100% che è una percentuale che non si è mai vista nei nostri laboratori per qualsiasi altro indicatore. Analogamente studiando i dati della società americana hanno visto come il tasso di impianto, cioè il numero di embrioni impiantati per embrioni trasferiti è aumentato progressivamente. Alla luce di questo loro ipotizzano, e ce l'ha spiegato prima anche Rosanna, che possiamo predire in un futuro non così distante di ottimizzare talmente tanto il nostro processo che saremo in grado di dire che possiamo avere il 100% di impianto. Questo nasce tutto dal pensare che è possibile ancora di più perfezionare le tecniche della PGS, avere dei test genetici che ci danno sempre meno errori, che ci danno sempre risultato, quindi che non ci danno per esempio delle non determinazioni, che possa essere disponibile in un secondo, che magari possiamo andare a matchare con un genotipo accessibile a tutti, senza fare la biopsia, perché no? Abbiamo i gruppi italiani che stanno lavorando su questo, quindi non invasiva e soprattutto che sia così economica e non costosa che possa essere applicata in tutti i casi. Nell'elaborare questa predizione, Jacques Quenne in un articolo pubblicato un paio di anni fa su Airbnb Online si è basato sulla legge di Moore. Moore era un ingegnere che lavorava per le Intel, che aveva osservato come il numero dei processori nei computer, raddoppiava di anno in anno e ha fatto una predizione, quindi sono leggi di futurologia applicata all'ingegneria e utilizzando questi grafici, Jacques ha ipotizzato che entro il 2053 ci sarebbe stato un centro, lui dice americano, perché si basa su questi risultati americani, che avrebbe dichiarato di avere il 100% di efficienza. ovviamente questo significa avere il 100% di efficienza sugli imbroni che siamo in grado di definire impiantabili e sicuramente non su tutti i tipi di infertilità. Sono stati i commenti di Jacques Quenne. Una visione scandinava molto interessante, invece quella data dal gruppo di Torir Ardarson. Torir è presidente del prossimo congresso a Copenhagen dell'Alfa, il Mondiale di Embriologia. È stato citato ieri per i suoi studi pionieristici sul timelapse. E loro osservano che, dato lo scenario normativo che c'è adesso, soprattutto per esempio in Europa, alcune delle innovazioni che ci sono state 15 anni fa, 20 anni fa, probabilmente non sarebbero possibili ora. e ci dicono anche, guardate, ricordiamoci che la tecnologia, così come il mondo del business, procede a cicli, nel senso che noi finché abbiamo una tecnologia che funziona bene e che ci permette di lavorare a certi standard, continuiamo. Poi arriva qualcosa che determina una rottura sul passato, una tecnologia più efficiente, a quel punto si sale al livello superiore. Una volta, appunto, ero una cena con Jacques Quenne e si parlava della parola breakthroughs, io sono bravissimo in inglese, e non riuscivo a trovare comunque una traduzione in italiano, perché nella parola inglese c'è l'indicazione di proprio qualcosa che rompe con il passato e ti fa passare, ti fa andare al next level, all'altro livello, ok? Torir ci dice che, non è detto che da questo momento in poi ci dobbiamo muovere veloce, così come le altre scienze, probabilmente lo scenario all'interno del quale ci troviamo fa in modo che si sia raggiunto probabilmente un plateau nella curva di crescita. in questa fase, almeno finché non interverrà qualcosa che ci farà andare al prossimo livello. Comunque, in ogni caso, lui dice, perché è forte la coscienza degli embriologi scandinavi, che se questa innovazione verrà, probabilmente sarà nostro compito, sarà compito della figura dell'embriologo all'interno di questo mondo. Yves, l'avete visto prima nella foto di Riccardo, è uno dei grandi amici della Sier, socio onorario della Sier, è stato il primo a fare dei terreni per la coltura embrionare che sono stati commercializzati, ancora oggi, se c'è qualcuno, lui è in pensione, ma se c'è qualcuno che ha bisogno di trovare una risposta a quei siti sulla biochimica della riproduzione, sicuramente contatta Yves, con lui si sono laureati e hanno ottenuto il PhD di tantissimi embriologi e autore di numerosissime pubblicazioni e nel suo articolo riporta un warning che spesso sentiamo da lui, lui ci dice che nel mondo della fecondazione in realtà vengono introdotte delle tecniche senza avere un rigoroso controllo, almeno lo stesso controllo che abbiamo nel mondo animale, lui ci fa tanti esempi, qui non l'ho citato, un esempio che fa sempre è quello della IMSI, ci sono queste tecnologie che vengono introdotte senza veramente avere degli studi di base robusti. C'è un capitolo bellissimo di Amir Arav, Amir è un criobiologo che sicuramente se vi viene un'idea, perché ieri un sacco di persone mi hanno detto, due persone in particolare, mi hanno detto mi è venuta questa idea ma come si può fare a svilupparla, un medico e un embriologo, due cose diverse, allora io ho detto guardate se volete un consiglio non venite più da me, leggete questo capitolo di Amir Arav, se c'è qualcosa comunque che vi è venuto in mente andate prima su Patenscope e mettete il nome Arav perché sicuramente l'avrà coperto lui, è impressionante, però è strano che non si sia fatto pagare per questo bignami che ci ha fatto sul nostro, è bellissimo, ci dice se ci viene un'idea cosa dobbiamo fare, qual è il momento di coprirla con un brevetto, quando dobbiamo andare da un venture capitalist per farcela finanziare, bellissimo, quindi non vi voglio togliere la sorpresa di andare a leggere. Di questo ne ha parlato ieri benissimo Thomas, cioè in uno scenario di questo tipo quando sono andati ad introdurre un terreno per l'attivazione vocitaria si sono sollevate delle critiche anche all'interno del mondo dell'embriologia, probabilmente critiche che se questo tipo di tecnologia l'avessero proposta 15 anni fa non ci sarebbero state. Noi abbiamo cercato un po' di fare il punto della situazione e abbiamo citato il caso italiano, anche ieri ne è stato parlato quindi vi dico veloce, quello che noi abbiamo definito la Italian Experience, non c'è dubbio che la difficoltà introdotta dalla legge 40 e la possibilità normativa di fare una cosa che tutte le altre società scientifiche internazionali consideravano insicura, non raccomandavano per l'uso clinico come il congelamento degli ovociti, ha permesso di portare ad un livello superiore la tecnologia del congelamento degli ovociti, perché noi per legge potevamo fare qualcosa che non era considerato invece sicuro dalle altre società scientifiche. Non ve lo devo raccontare io che quando è stata tolta nel 2012 l'etichetta di sperimentale al congelamento degli ovociti, il 30% degli articoli citati dal practice committee della SRM erano di gruppi italiani e nel 90% dei casi questi articoli portavano i dati, i dati robusti sui quali poi la società si è basata per togliere questa etichetta di sperimentale. Ancora adesso ci sono delle tecnologie che se noi pensiamo come si sono imposte sul mercato si sono imposte da una combinazione di legislazione, marketing, sviluppo delle tecnologie che sono correlate, per esempio lo sviluppo dei tablet e degli smartphone e la possibilità di far vedere ai pazienti il filmino dell'embrione che cresce ha fatto in modo che si diffondessero la tecnologia time lapse. In alcune nazioni come nell'Inghilterra magari la necessità di standardizzare il controllo degli embrioni della qualità embrionaria ha portato a finanziare i centri che hanno poi acquistato sistemi time lapse. In altre nazioni come la Spagna si è innescato un meccanismo, se lo vogliamo chiamare virtuoso, ma diciamo di marketing che se un centro aveva il time lapse e l'altro non l'aveva le pazienti non ci andavano e quindi questo richiamo sulle pazienti. Quindi c'è un'unione di vari fattori che determinano l'importo di un prodotto sul mercato e di cambiare la tecnologia. Teniamo d'occhio anche il fatto che da adesso in poi potremo dover far conto su queste tecnologie, vedremo all'interno degli scenari normativi che potrebbero essere diversi nelle varie nazioni. Adesso abbiamo Cina, India che lavorano su queste cose. Penso che a tutti voi sarà capitato di ricevere degli spam, non soltanto dei Rolex ma anche delle aziende che commercializzano sistemi CRISPR e Caspasi. Il prossimo numero che stiamo progettando di Current Trends in Clinical Embrology parlerà proprio di questo, un numero speciale che dedicheremo a questo. Quindi sicuramente tanto rimane da fare, siamo sempre bravi a raccontare qual è la nostra percentuale di gravidanza, come sopravvivono bene le nostre blasto, come sappiamo fare la biopsia ma dobbiamo considerare che al tempo stesso ci sono degli insuccessi. Ancora gran parte del nostro lavoro è fatto di insuccessi, ci sono bambini che non nascono e famiglie che non sono felici. Quindi questo congresso che ci ha fatto vedere le diverse figure che lavorano in questo settore, all'interno della nostra società abbiamo figure che sono più orientate per la ricerca e chi fa più clinica, chi fa la seminologia, chi è più esperto nel settore normativo. Abbiamo visto l'interazione, la vedremo nel pomeriggio, con altre discipline, con altre discipline della fisica tipo microfluidica, soltanto con l'unione di tutte queste forze e con la congiuntura di alcune situazioni normative di mercato probabilmente si innesterà la marcia superiore. Grazie, scusate. Grazie. 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 Grazie.